Il corpo della polizia locale di Fano ha festeggiato oggi il suo 155esimo anniversario con una messa celebrata nella basilica di San Paterniano dal vescovo Armando Trasarti alla presenza delle autorità civili e militari della città e delle forze di polizia. Per trovare le prime tracce di polizia urbana dobbiamo risalire addirittura all'epoca dei romani. Fu infatti l'imperatore Cesare Augusto che istituì due organi di vigilanza che operavano esclusivamente all'interno della città e nell'interesse della stessa. Il loro comandante era denominato Prefectu Vigilum ma fu verso la fine dell'Ottocento che diverse città italiane si dotarono delle guardie comunali e tra queste appunto anche Fano. Alle 10.30 di questa mattina tra due ali di agenti schierati ed un picchetto nella bellissima uniforme storica a fare ingresso in basilica sono stati anche i vigili urbani ormai in pensione e di due precedenti comandanti del corpo che per l'occasione si sono ritrovati sul sagrato della chiesa accompagnati poi alla funzione dall'attuale comandante Alessandro Di Quirico. Sono tanti anni ma li portiamo bene. Allora oggi abbiamo pensato come di consueto negli ultimi anni di fare la celebrazione, una messa. Ovviamente non dimentichiamo che oggi comunque ci sono dei servizi a garantire quindi solo una delegazione numerosa del corpo è presente. È vero che siamo un po' in sofferenza col personale, siamo un po' in diminuzione ma l'amministrazione sta già valutando di cominciare le assunzioni, tutto ci blocca la situazione nazionale diciamo il blocco delle assunzioni e così via. Però abbiamo sempre cercato di rispondere al nostro piccolo a tutto quello che sono le esigenze della cittadinanza. Abbiamo garantito, magari si potrebbe far meglio, non dico di no, però con tanto impegno abbiamo garantito l'essenziale per lo meno per dare una risposta ai continui problemi e non possiamo arrivare dappertutto. Se ci chiamo contemporaneamente in dieci posti io non ho dieci persone, contemporaneamente non riesco a moltiplicare il mio personale, però insomma cerchiamo di fare il possibile. Nella lunga e toccante funzione religiosa ogni passaggio è stato sottolineato dalle voci del coro del corpo, dodici elementi che per la loro bravura ed impasto vocale sono conosciuti da altri corpi di polizia locale in tutta la regione delle Marche. Tant'è che scherzosamente nei saluti e nei ringraziamenti finali il comandante li ha definiti dei professionisti travestiti da vigili. Calorose e di esorto ad ispirarsi ai più alti valori di funzione pubblica ma anche umana e di accoglienza sono state le parole del Vescovo durante l'umelia rivolgendo un saluto di Cristiano Amore anche alle famiglie degli agenti. In giornata diffusi anche i dati relatività al corpo che nel 2018 ha rilevato 16.000 infrazioni al codice della strada di cui spiccano i 1.277 attraversamenti con il semaforo rosso e sul fronte della prevenzione i 322 sequestri amministrativi e 336 veicoli pizzicati senza assicurazione oltre ai 386 furbetti del cassonetto.